multimaster fine la risposta a tutte le esigenze di ogni artigiano ristrutturare e rinnovare in modo più facile ed efficace i multimaster svolgono tutti i compiti senza sforzo con i giusti accessori utilizzati in tutto il mondo provati milioni di volte made in germany confortevole e veloce ogni cambio utensile grazie allo starlock non potrebbe essere più semplice il funzionamento estremamente agevole garantisce precisione con le sue mille possibilità il multimaster non teme quasi nessun materiale soprattutto se gare in luoghi difficilmente accessibili col multimaster non è un problema che sia legno o metallo il trattamento delle superfici deve soddisfare le esigenze più elevate per questo i professionisti si fidano del multimaster la lucidatura che prima si faceva con fatica il multimaster ora la esegue quasi in un batter d'occhio brillantemente perfetto nell'utilizzo il multimaster nel bagno se si devono cambiare singole piastrelle o mattonelle tagliare e raspare velocemente con l'utensile giusto e se rimangono fastidiosi residui delle fughe o la mochetta è danneggiata anche qui ci aiuta il multimaster con la soluzione tagliata su misura grazie a tutti multimaster mille possibilità e molto più grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti